Ciao amici di Unibet, finalmente è arrivata questa benedetta partita, questo benedetto confronto, la resa dei conti con i partenopei. Bene, è successo di tutto questa settimana, polemiche, l'arbitro, non l'arbitro, alla fine l'arbitro, hanno portato quello, si porteranno l'arbitro che vogliono loro, ma loro si portino anche l'arbitro, il pallone, i massaggiatori, il cattapalle, i venditori di bandiere, portino quello che noi gli aspettiamo lì nel nostro J-Stadium. Anche senza Chiellini, però vedrete che la Juve ha le risorse per poter andare a riprendersi il posto che le compete. Quindi che cosa vi dico di scommettere? Ragazzi, la quindicesima è fondamentale per svoltare, ma soprattutto rivoltare come un calzino il campionato, quindi vi dico ancora una volta, seguite il mio consiglio. Uno, marcatori, Pogba, che fa sempre gol eccezionale al Napoli, e Morata? Vediamoci. Forza Juve, venite napoletani, vi aspettiamo.